Tornare anche fisicamente in mezzo alle cassette, ai rumori e ai colori di un mercato ortofrutticolo come quello di Milano. Tornare in mezzo ai dettaglianti e ai grossisti, tra coloro che fanno il mercato e scoprire il prodotto come un'opera d'arte. Kandonga ritorna nel traffico dei bobcat e dei bancali per l'iniziativa Lovers. Club Kandonga promuove per il secondo anno l'operazione Lovers, è un'operazione che consente di mettere in contatto i produttori, i distributori, i consumatori finali. I Lovers sono coloro i quali apprezzano la Kandonga Fragola Top Quality e qui all'ortomercato oggi di Milano potranno trovare la Kandonga Fragola Top Quality negli stand che sono indicati e che commercializzano la Kandonga Fragola Top Quality. 12.000 tonnellate previste per il 2016, 30 milioni di fatturato, ma il successo non sta solo in questi numeri, ma in un rapporto di fiducia con gli operatori del settore. E' sicuramente un'iniziativa molto interessante in quanto dà visibilità ad una varietà particolare che è la Kandonga che comunque nel nostro settore si sta dimostrando sempre vincente. Attualmente le quotazioni sono risalite anche perché la qualità della Kandonga si sta dimostrando come ogni anno. La formula magica di Kandonga non è un segreto, ma frutto di applicazione imprenditoriale. Kandonga Fragola Top Quality si conferma una delle fragole più richieste dai consumatori, foodies, per le sue caratteristiche organolettiche. Sapore, aroma, shelf life, sono le caratteristiche che ne fanno di questa una super fragola. Il road show con gli chef, l'apertura ai berries, le tappe di Kandonga Lovers. La fragola lucana è davvero sempre in movimento.